ciao lupa ciao brunello mamma mia cosmico tu 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 dai allora riparto stay frosty episodio 2 parliamo di modern warfare 3 lancio preparati dobbiamo essere prontissimi all'arrivo di questo modern warfare 3 il 2 novembre per chi ha fatto il preorder accesso anticipato ci sarà il rilascio della campagna quindi si potrà giocare qui siamo nella patch note nel sito di activision dove c'è la patch note del blog scusatemi che parla di tutto quanto quello relativo a tutto tutto quanto quello che devi sapere per poterti preparare a modern warfare 3 abbiamo quindi 2 novembre rilascio della campagna single player in una nuova modalità porca miseria mamma mia vai questa la rifaccio per bene dai aspetta metto anche l'altra cuffietta vi piace quando viene così allora dicevamo stay frosty episode 2 su modern warfare 3 in arrivo il 2 di novembre in accesso anticipato per chi ha fatto il preorder ci sarà la campagna modalità open world quindi open world semi open world nel senso che sarà una campagna che ci darà libertà di azione sul campo di battaglia per andare a completare la missione come meglio ci piace in teoria andremo a vederlo quindi passatemi a trovare sul mio canale twitch per giocare insieme la campagna single player dal 2 di novembre per andare a scoprire tutti i segreti che ci sono nella campagna e poi ovviamente vi terrò aggiornati su questo podcast che sto cercando di mettere in piedi non senza poca fatica quindi mi raccomando anche qui un like un commento per farmi capire se vi piace questo tipo di stile podcast oppure se vi fa cagare scrivetemi anche quello feedback positivi negativi sono sempre più che ben accetti quindi andiamo avanti 2 novembre ci sarà giovedì l'arrivo di modern warfare 3 accesso anticipato poi intel drops la campagna come ho detto modalità aperta qui c'è il link per andare a vedere direttamente sulle pagine correlate tutti i dettagli relativi a cose effettivamente ci proporrà la campagna e ovviamente andiamo a vedere poi l'arrivo il 10 di novembre con multiplayer quindi che cosa arriverà il 10 novembre quando verrà rilasciato tutto multiplayer nella modalità che sappiamo già quindi mappe 6 v 6 livellamento nuove armi che saranno 40 sarà veramente un divertimento andare a livellare tutte le armi e andare a portarle tutte in linea per poterle utilizzare su warzone il 5 dicembre quando verrà integrato con tutto quanto l'universo di modern warfare 3 campagna di cui stavamo parlando prima è la nuova esperienza zombie modalità open world che non sarà pvp ma sarà pve quindi praticamente saremo noi squadre contro gli zombie e andremo a dominare cercando di estrarre sopravvivendo alle ondate di zombie quindi un extraction shooter con gli zombie dentro nel mondo di modern warfare 3 quindi la prima volta che modern warfare incontra i zombie vedremo che casino uscirà fuori quindi andiamo avanti velocissimi perché non voglio portarvi via tempo cerco di essere molto più sintetico del primo video che abbiamo fatto ieri quindi se non l'avete visto andate a vederlo mi raccomando mi raccomando sempre un bel like a questo a questo video estremamente importante multiplayer che porterà tantissime mappe del mod di modern warfare 2009 rimasterizzate in più arriveranno anche le mappe di modern warfare 2 che verranno introdotte durante la season quindi anche qui 16 mappe di modern warfare 3 rimasterizzate più le mappe di modern warfare 2 saranno 5 6 che verranno introdotte durante lo svolgimento delle settimane per arrivare alla season 1 quindi 5 dicembre in più ci saranno mappe 3 o 4 che verranno droppate regolarmente ogni season sempre su multiplayer per tenerlo sempre attivo e croccante poi andiamo a vedere multiplayer after market parts quello che vi ho detto nei video precedenti che praticamente la possibilità di modificare completamente anche in questo caso possiamo andare ad accedere ad un blog a parte che ci spiega esattamente come funziona l'after market ossia andare a modificare direttamente le armi per trasformare un arenetti che vedete qui in un smg con lo stesso castello andiamo a costruirci un smg con determinate caratteristiche che andiamo a scoprire ovviamente se rimarrete collegati a questo canale iscrivetevi e condividete questo video con tutti quanti gli appassionati call of duty poi modern warfare zombie ve l'ho parlato ve ne ho parlato prima ed è per la modalità open world sembra veramente molto bella e molto figa per poter andare a livellare armi e per potersi divertire senza avere la pressione di avere un fight con personaggi quindi con player reali lì andremo soltanto a sparare a zombie inanimati e collaborare con altri amici quindi call of duty next live event quindi abbiamo detto che ci saranno la mappa con il ping la quindi la classica minimappa il silent move perk tutto quanto quello di cui vi ho parlato già nei video precedenti per cercare di stringere anche qui c'è il collegamento per andare a vedere esattamente tutto quanto quello che verrà introdotto quindi la tactical stance il movimento accelerato il volting accelerato dalla beta al lancio quindi abbiamo anche adesso praticamente da quello che abbiamo visto tutti quanti feedback sul trello board sono stati dati per poter andare a capire che cosa voleva essere cambiato qui sono tutte quante le issue per andare a risolvere tutti i problemi e qua tutte le cose risolte quindi se volete andare a vedere tutto quanto quello che hanno toccato e modificato let the gaming begin a proposito se siete utenti pc oppure playstation il pre download della campagna single player è già stato è già partito ieri quindi fatelo mettete a scaricare tutto fate partire steam battlenet oppure la playstation xbox è veramente importante scaricarlo prima così potrete giocare tranquillamente quindi novembre 1 tutte le piattaforme avranno il pre download però ovviamente già partito prima come vi dicevo si parte il 2 e poi l'otto di novembre ci saranno in base alle varie ore geografiche ci saranno i rilasci per quanto riguarda i pre download di modern warfare 3 per quanto riguarda il gioco completo anche qui ci sono tutti gli orari quindi abbiamo playstation alle 10 am pacific time vi consiglio di fare così 10 am pacific time e vedete che sono esattamente vi dà la conversione pacifico eccetera eccetera quindi vi dice esattamente quando verrà rilasciato nella vostra zona di interesse quindi alle 10 am tutto 10 am tranne che per quanto riguarda il full game e quindi il gioco completo sempre a 10 dell'otto novembre questo è il primo novembre otto novembre questa è una bella mappa che ci permette di vedere tutto quanto quello tutte le varie mappe geografiche ovviamente quelli che stanno in nuova zelanda potranno giocarci prima come per il capodanno arriva prima in nuova zelanda se avete fatto un account in nuova zelanda giocherete prima e ovviamente però che cacchio me ne frega di fare l'account in nuova zelanda solo per i content creator va bene comunque novembre 9 ci sarà il rilascio di tutto mi raccomando strofina un po di più modern warfare 3 pre season parte il 10 novembre quindi viene rilasciato modern warfare 3 con tutto quanto quello che stiamo vedendo quindi la progressione dei vari livelli l'avanzamento del nostro soldato l'avanzamento dei livelli delle nostre armi quindi arrancheremo di nuovo dall 1 al 55 per sbloccare tutte quante le varie mimetiche per i personaggi per poter andare a sbloccare le armi ci saranno le weekly challenge le daily challenge e tutto quanto riportato all'interno di un menu per fortuna vediamo completa tutte quante le challenge per sbloccare tutte le mimetiche una cosa che andremo sicuramente a fare get good booty player quindi praticamente qui ci dice ci sprono ad andare a giocare multiplayer zombie battle pass modern warfare 3 season 1 comincia i primi di dicembre come dicevo molto probabilmente il 5 la data è pressoché già stata stabilita perché durante i leak che ci sono stati durante la causa che c'era fra playstation e microsoft avevano leakato tutte le date fino alla season 1 e oltre quindi 5 dicembre la data ufficiale di rilascio a meno che non ci sia qualche ritardo quindi early access per la campagna l'abbiamo detto prima per quanto riguarda invece il discorso di chi farà la campagna avrà delle reward esclusive l'operatore corso pathfinder jabber doc poi c'è una blueprint classificata che non si vede in questo momento calling card a manetta e quindi ci sono delle reward per chi gioca la campagna e per chi ha comprato il titolo completo ovviamente ci sono anche double xp token ci sarà la gilgai calling card insomma tutto quanto quello che vi ho fatto vedere qua sopra in più ci saranno anche dei token ciao grande duca poi modern warfare 3 launch comms continua quindi ci saranno qua in pratica ve lo resumo in brevissimo qui dice state collegati al blog di call of duty perché è blog 1 pre-season preparation che è quello che stiamo vedendo poi blog 2 mapping out multiplayer ci farà vedere tutte le mappe multiplayer che saranno il cat rot quindi il taglia goal e 3v3v3 quindi saranno tre squadre composte da tre player che ci andremo a massacrare su mappe multiplayer molto divertente soprattutto per attività di community per quanto mi riguarda veramente molto carino per fare dei tornei interni 6v6 le classiche mappe poi ci sarà il 32vv32 che sarà ovviamente la modalità quella guerra terrestre invasione per poter livellare le armi ci sono sempre dei link correlati questo in questo momento è già uscito blog 2 avremo poi blog 3 fully equipped un deep dive su tutti i loadout sia multiplayer che che warzone credo oppure sarà zombie mv zombie gear up for the evolution perk quindi ci parlerà di tutti quanti i perk tutte le tattiche letali feed upgrade eccetera eccetera poi blog 4 quindi da qui fino al 10 novembre ci saranno tutti quanti questi blog che andranno a spiegarci esattamente nel dettaglio e per questo rimanete collegati a questo podcast per avere tutti gli aggiornamenti anche di questi blog che verranno rilasciati prossimamente quindi l'ultimo blog il 6 modern warfare zombie launch content overview l'overview di tutto di tutto quanto quello che ci sarà all'interno del mondo zombie modern warfare e qui ovviamente ci salutano con stay frosty vi saluto anch'io con stay frosty per il momento guerrieri questa è tutta la patch che è stata rilasciata per quanto riguarda la prima parte ovviamente che abbiamo visto insieme relativamente a il discorso del quello che uscirà da qui a breve andiamo a vedere qui nel blog ovviamente c'è anche multiplayer mappe modes che ci fa vedere esattamente 3v3 che vi ho fatto vedere prima quindi cat root 6v6 team deathmatch domination search and destroy kill confirm free for all tutte le modalità che conosciamo già da tantissimo tempo control war gun game quindi il game è veramente molto divertente utilizza un'arma casuale che ti viene data e poi la evolvi tutte le volte che effetti una kill poi ci saranno le modalità 32 versus 32 ground war invasione che sono molto utili per livellare le armi poi addition intel mod ci sarà di nuovo hardcore che ci permetterà di andare a fare quelle challenge più difficili dove bisogna magari fare un one shot oppure una headshot insomma ritorna il firing range ossia il poligono di tiro dove però speriamo che sia più accurato di quello che abbiamo in questo momento in mv2 perché in questo momento mv2 il problema del firing range del poligono è quello del poca accuratezza anche della precisione dei colpi che entrano in sagoma andremo a vedere ci sarà il private match training e benchmark questo è importante perché ovviamente in questo canale trattiamo anche tutto quanto quello che è relativo all'ottimizzazione dei giochi soprattutto di warzone per andare a settarlo al meglio e per poter cercare di avere più fps possibili in questo caso i match privati ci aiuteranno a trovare i settaggi migliori per performare al 100% ovviamente ci sarà anche la modalità benchmark per andare a fare i benchmark della mappa singola poi play launch map ovviamente ci sono tutte quante le mappe che verranno lanciate al 10 novembre afghan the rail estate tutte quante quelle che abbiamo già visto in modern warfare 2009 remasterizzate ci saranno poi quarry rundown rust scrapyard skidrow sub base e in più come vi dicevo prima ci sarà l'introduzione all'arrivo ovviamente queste per ground war quindi leaving resort or love military base che abbiamo già visto durante la beta pop of power operation spered che sarà la modalità guerra in più che di forward map quello che vi dicevo da mv2 arriveranno le mappe piano piano durante la season di mv2 come farm 18 mercato e shoot house yes shoot house i love it comunque queste le mappe ovviamente operatori astra fottere come sempre ci sono un casino price ghost blueprint rocket b line scorch ripper pathfinder riptide bbq jeb insomma ce n'è veramente un casino makaroff e warden per chi ha fatto il pre order questi quattro sono già nel pacchettone ovviamente tutti diamantati visibili da 18 chilometri di stanza e one shot abili da tutti quanti per punizione divina che viene data a tutti quanti quelli che fanno il pre order soprattutto dell'edizione cassaforte quindi sono tutti gli operatori ce ne sono 13 12 per un totale di 25 operatori al lancio in più ne aggiungeranno veramente un sacco di altri poi ci sarà ovviamente blog come prima vi ho detto e qui finisce veramente tutto vi ho fatto vedere quindi le prime due parti del blog che sono stati pubblicati sul sul sito di activision spero di non essere andato lungo 16 minuti 17 quindi chiudiamo il stay frosty episodio 2 chiedendovi un like un commento e di condividere questo blog questo scusate questo podcast con tutti quanti i vostri amici per il momento guerriero questo è tutto keep fighting alla prossima oh madonna mia mamma mia